Salve a tutti. Ci sono cose che non si possono vedere perché la luce che le fascia e ne rivela ad un tempo la profonda natura eccede le capacità dell'occhio umano di percepirle. Ci sono poi cose che non si possono comprendere perché nel loro sistematico unire caratteristiche opposte eccedono le categorie del nostro intelletto. Ci sono cose che non si possono ricordare quando anche non si potrebbero ricordare quando anche fossero comprese perché eccedono per l'appunto la limitata capienza dell'umana memoria. E ci sono infine cose che quando anche fossero ricordate non si potrebbero dire perché la nostra lingua semplicemente non basta. È forse di queste cose che sono altrove eppure dentro di noi che si occupano le arti, ogni forma di arte. Certo principalmente per noi italiani e italofoni di queste cose si occupa il paradiso di Dante, un sublime tessuto di impossibilità e di pretelizioni. Per questo motivo io oggi mi onoro di invitare tutti voi artisti di qualunque genere di espressione artistica vi occupiate a aderire, partecipare al bando dell'Accademia Dantesca In Arce Dantis per il prossimo festival del autunno 2021 che proprio con queste categorie delle indicibilità paradisiache meritoriamente si confronta. Coraggio, vi aspettiamo!